Si è avvicinato con il cellulare? No, ecco, qualcuno lo vediamo, vediamo, ecco. Sì, 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 sì. Ecco, riguardo al discorso dell'informatica, della bioinformatica, cioè... Eccone uno. Buongiorno, buongiorno. Dottorando. Lascio l'auricolare, che dici, Sergio? Sì, sì, facciamo... Se vuoi fare qualche domanda direttore? Sì, volentieri, volentieri. Ciao a tutti. Buongiorno, io sono Sergio di Eugenia Bordo, siamo collegati su internet, stiamo facendo un webinar dove ci sono collegati un po' di centinaia di ragazzi, quindi adesso sei sugli schermi delle scuole d'Italia. Posso chiederti, richiederti come ti chiami, che non l'ho sentito? Certo, mi chiamo Riccardo De Santis. E quanti anni hai? Ho 26 anni. 26 anni, e stai facendo? Un dottorando, sto facendo il dottorato qui alla Sapienza. Quindi il dottorato, raccontiamo anche che cos'è il dottorato, visto che ci siamo, perché è quello che si fa dopo la laurea. Ok, allora, sì, beh, il dottorato è una delle possibili carriere che i laureati in biologia possono scegliere. Fondamentalmente il dottorato in biologia ti offre l'opportunità di continuare con un percorso che è sempre di tipo accademico, fondamentalmente incentrato sull'acquisire conoscenze e preparazione che ti permetteranno poi un giorno di dare un contributo nella ricerca scientifica. Hai dato una risposta veramente, sembra che tu te la fossi preparata, quando invece non... Giuro che non avevamo preparato niente. Non ce ne siamo preparati, giuro. Quindi tu con questi... Mettiamola così, questa è una domanda che molto spesso i nostri studenti che vengono qui per fare il tirocinio ci chiedono, nel senso, cosa c'è dopo la laurea e perché hai scelto di fare il dottorato. Fondamentalmente le persone che scelgono di fare il dottorato hanno un grosso interesse verso quello che è la ricerca accademica, quindi la ricerca sia di base che applicata e le persone che poi decidono di rimanere in questo ramo cercano di costruire al meglio le proprie basi scientifiche per poter continuare in questa avventura, mettiamola così. Posso chiederti quanti anni avevi quando sei entrato per la prima volta nel laboratorio? Sono entrato per la prima volta come studente durante la tesi triennale, facendo sempre un lavoro in laboratorio, avevo 23 anni, 22 forse. Quindi avevi rispetto ai ragazzi che ci stanno ascoltando adesso, in realtà avevi 4-5 anni in più, insomma pochi anni in più, potevi essere diciamo un fratello, un fratello maggiore, ecco questo anche per farci capire, grazie mille, grazie, puoi ridare l'auricolare a Alessandro così continuiamo il nostro giro, grazie a tutti, buon lavoro, grazie anche a te. Dicevamo Alessandro l'età di chi inizia a fare un percorso in laboratorio, vediamo ragazzi molto giovani, ma chi non è mai entrato in un laboratorio specialmente di biotecnologie si aspetta di trovare persone con i capelli bianchi, professore universitario, invece vediamo ragazzi che in realtà iniziano a 21-22 anni a entrare in laboratorio. Aspetta, ti passo la nostra, diciamo, la nuova arrivata, quindi ecco lei è appena entrata in laboratorio. Ecco abbiamo una studentessa, buongiorno, buongiorno, siamo collegati con le scuole d'Italia, come ti chiami? Pronto? Pronto? Mi tente, sì? Sì, sì, sento benissimo, come ti chiami? Giorgia Buongiorno Giorgia, siamo collegati con un po' di scuole d'Italia, ci interessa sapere, anche se non è educazione chiedere l'età a una signorina, però diciamo a scopo accademico ci interessa sapere quanti anni hai? 24, appena fatti 24 e sei entrata adesso in laboratorio o da un po' che stai bazzicando il laboratorio? Allora, il laboratorio in realtà l'ho bazzico da un po', però diciamo di lavoro pratico ho iniziato adesso, perché ho fatto una tesi di tipo compilativo, quindi diciamo di lavoro sul campo ne ho fatto ancora poco, sto cominciando adesso. Quindi sei già laureata? Ti sei laureata da poco? Sì, sì, laureata alla triennale, sto cominciando adesso la laurea specialistica. Ok, cosa ti ha fatto decidere, diciamo rispetto alla tesi compilativa che non è un lavoro sperimentale, ma è un lavoro di ricerca su pubblicazione, eccetera, a passare invece a un lavoro più di tipo sperimentale? Qual è stata la molla che ti ha convinto a aprire quella porta e entrare nel laboratorio? Guardi, in realtà sarei voluta entrare anche prima, soltanto che per una questione di tempo non ho potuto realizzare una tesi sperimentale prima, però diciamo che il progetto c'è da sempre, quindi non è che ha scattato qualcosa, c'è sempre stato. Qual è il tuo progetto, di cosa ti occupi? Adesso stiamo facendo un progetto sul virus Zika. Virus Zika, quello di cui si è parlato nelle notizie? Zika, quest'estate. Esattamente, sì, anche l'altra estate. Stiamo facendo questo progetto su neuroni corticali per vedere, diciamo, come agisce sulla membrana questo virus. Ecco, diciamo, questo studio sperimentale. Insomma, tu sei appena entrata in laboratorio e ti hanno subito messo a lavorare nella pratica con, voglio dire, con un progetto importante. Quindi maneggerai anche tipicamente in laboratorio, ci sono ragazzi molto giovani che maneggiano sostanze, soprattutto apparecchiature che magari costano centinaia di miliardi di euro. E' una bella responsabilità. Sì, 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 c'è un pochino di soggettione, infatti un pochino di timore di fare qualche danno, ma diciamo che sono super seguita, ecco, non mi lasciano fare danni. Grazie mille, ci ripassi Alessandro, grazie, buon lavoro. Sì, sì, certo, come no, buona giornata. Alessandro, il tema, diciamo, della responsabilizzazione, no, qui stiamo parlando di ragazzi che sono, ripeto, hanno, rispetto ai ragazzi che ci guardano su web, hanno forse 5 anni, 4 anni in più, quando iniziano a entrare in laboratorio. Eppure cominciano a lavorare subito su progetti.